Fabio pensa di fare il bucato Fabio mette gli indumenti in un cesto per il bucato Porta gli indumenti vicino alla lavatrice Mette gli indumenti vicino alla lavatrice Fabio alza il coperchio della lavatrice Fabio mette gli indumenti nella lavatrice Fabio mette gli indumenti nella lavatrice Mette il detersivo nella lavatrice Mette il detersivo nella lavatrice Chiude il coperchio della lavatrice Chiude il coperchio della lavatrice Fabio avvia la lavatrice Fabio avvia la lavatrice Fabio avvia la lavatrice Fabio alza il coperchio della lavatrice Fabio alza il coperchio della lavatrice Fabio alza il coperchio della lavatrice Fabio prende gli indumenti bagnati fuori dalla lavatrice Fabio prende gli indumenti bagnati fuori dalla lavatrice Fabio prende gli indumenti bagnati fuori dalla lavatrice Fabio mette gli indumenti bagnati nel cesto per il bucato Fabio mette gli indumenti bagnati nel cesto per il bucato. Questo è un essicatoio. Questa è una molletta da bucato. Fabio usa una molletta per appendere una camicia sulla corda del bucato. Fabio usa una molletta per appendere un paio di pantaloni sulla corda del bucato. Fabio usa una molletta per appendere una camicia sulla corda del bucato. Fabio usa una molletta per appendere una camicia sulla corda del bucato. Fabio usa una molletta per appendere una camicia sulla corda del bucato. Fabio apre lo sportello dell'essicatoio. Fabio apre lo sportello dell'essicatoio. Fabio apre lo sportello dell'essicatoio. Fabio mette gli indumenti bagnati nell'essicatoio. Fabio mette gli indumenti bagnati nell'essicatoio. Fabio chiude lo sportello dell'essicatoio. Fabio mette gli indumenti asciutti nel cesto per il bucato. Fabio mette gli indumenti asciutti nel cesto per il bucato.